E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati nel nostro appuntamento nell'accogliere il dono di Dio che è lo spirito lo spirito che rinnova la faccia della terra come si dice nel Salmo e nella liturgia uno spirito che ci riempie ci riempie di consapevolezza nuova di un nuovo modo di affrontare le cose di tutti i giorni l'aver ricevuto un dono o l'essere addirittura in attesa di un dono ci riempie di gioia ci spinge ad avere un atteggiamento anche diverso nei confronti delle persone che incontriamo e questo penso il segreto un po' dell'esperienza cristiana anche nella fraternità anche nella preghiera l'essere consapevoli di aver ricevuto un grande dono di essere destinatari di una grande eredità di un grande tesoro penso solo anche la bella notizia della risurrezione di Gesù la Pasqua, la vittoria della vita contro la morte contro il peccato, contro il male è un grande dono che abbiamo ricevuto e che non ci stanchiamo mai di ricordare per poter far sì che questo diventi poi vita vissuta ci spinga a comportarci di conseguenza la gratitudine è la chiave di lettura della vita dei cristiani abbiamo detto tante volte uno dei punti fondamentali dei pilastri della vita cristiana è la Messa e la Messa è Eucarestia cioè in greco un bel grazie un bel rendimento di grazie un modo per essere grati la gratitudine appunto coltivare, celebrare la Messa è coltivare la gratitudine per quello che abbiamo ricevuto per quello che ci è stato donato e nella consapevolezza che quello che è il dono di Dio non può essere rubato o tolto o cancellato da nessuno quello che abbiamo dura per sempre quello che abbiamo ricevuto da Dio dura per sempre non può essere non esiste potenza umana o anche spirituale che possa strapparci dalla comunione con Dio e così in quel bellissimo grido del capitolo 7 capitolo 8 della lettera ai Romani San Paolo dice nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù chi potrà mai chi potrà mai separarci e questa consapevolezza è la consapevolezza anche che permette alla comunità del Vangelo di Matteo di raccontare anche l'ultimo grande discorso di Gesù il quinto il discorso cosiddetto sulla fine dei tempi perché qualcuno di fronte all'avvento di una catastrofe mondiale o di un cambiamento di paradigmi ma anche semplicemente ogni anno nell'affrontare la stagione invernale qualcuno appunto sente questo peso questa prospettiva come inquietante come difficile da accettare come faticosa ma ecco se io sono consapevole che quello che ho ricevuto non mi verrà tolto se io sono consapevole del dono di Dio come dice Gesù alla Samaritana non posso non adorarlo in spirito e verità nonostante quello che può accadere anche se andassi in una valle oscura dice il Salmo non temerei alcun male perché tu Signore sei con me il Signore è il mio pastore è accanto a me e i Suoi doni non sono revocabili i Suoi doni non sono non vanno in prescrizione non vanno non vanno al macero non vanno non hanno scadenza i doni di Dio sono doni che noi riceviamo per sempre in una perennità che ci toglie tutte le preoccupazioni tutte le ansie del tempo proprio perché ci aggancia a questo sguardo di speranza e di vigilanza ecco il discorso di Gesù che troviamo appunto al capitolo 24 del Vangelo di Matteo l'ultimo grande discorso detto anche il discorso escatologico prende le mosse dalla città di Gerusalemme Gesù usciva dal Tempio e veniva invitato dai discepoli a osservare come erano fatte tutte le costruzioni del Tempio di Gerusalemme e attorno al Tempio e Gesù secca tutti dicendo vedete tutte queste cose bene vi dico che non resterà pietra su pietra che non venga distrutta tutto passa come dicevano i filosofi anche i greci tutto quello che noi vediamo tutto quello che è oggetto del nostro sguardo anche della nostra ammirazione la bellezza in sé in tutte le sue forme passa tutto ciò che è bello passa tutto ciò che attira al nostro sguardo passa è transitorio è leggero è fugace del momento e sembra una considerazione quasi amara quella di Gesù cosa vuol dire che tutta questa gloria questa bellezza debba essere distrutta i discepoli si incuriosiscono e cominciano a fare delle domande Gesù fa dei discorsi e fa questo discorso escatologico sulla fine dei tempi riguardo anche a tante prove vi prenderanno vi perseguiteranno vi uccideranno vi tradiranno vi sarà una grande tribolazione quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino ad ora a causa di quella tribolazione i giorni saranno abbreviati sorgeranno falsi testimoni ecco Gesù comincia a raccontare ai discepoli di pestilenze di epidemie di guerre di sconvolgimenti cosmici disastri ambientali se vogliamo proprio per aiutare i suoi discepoli a comprendere cosa può cambiare e cosa invece no quando accadranno queste cose alzate il vostro capo sollevate lo sguardo e poi insegna la parabola del fico anche questa molto bella no la prima pianta a germogliare dopo l'inverno l'ultima a dare frutto come a dire che di fronte a queste a questi segni che i cristiani vedono c'è un tempo necessario di attesa perché perché arrivi un frutto non c'è la fretta la frenesia di dover arrivare in fondo di capire tutto di risolvere le questioni ma il procedimento dell'incontro con il Signore richiede in noi un desiderio di attesa e anche di attesa condivisa insieme ad altri noi possiamo riconoscere la chiamata che il Signore ci fa ad essere nuovo popolo ad essere nuova una nuova vita risorta nel mondo anche se poi attorno a noi non ci sono delle prove provate di questa attesa ma come se noi avessimo già in mano il frutto finale di questo lavoro di questa trasfigurazione del cosmo come se noi avessimo già ricevuto un anticipo sicuro di quello che sarà il tesoro alla fine dei tempi ecco questa è la consapevolezza di chi attraversa la vita del cosmo la vita anche di questi eventi particolarmente complessi la vigilanza vegliate lo sentiamo dire spesso non in questo tempo liturgico dell'avvento essere capaci di attendere con una consapevolezza nuova quello che abbiamo davanti vegliare vegliare significa anche essere capaci di attraversare un tempo fuori da quello che è il suo senso la notte è fatta per dormire dicevano ho sempre sentito dire come detto della famiglia anche attorno la notte è fatta per dormire è vero però nella notte il cristiano è come una sentinella è una sentinella che attende il mattino e anche se ci fosse qualcuno che dice no ma non vedi com'è buio il mattino non arriverà mai no la sentinella sa che il mattino arriverà che la luce ritornerà e così anche il cristiano che vive attraverso certi momenti anche di fatica di sofferenza di travaglio personale sociale cosmico sa che ultimo si ergerà nella polvere come dice il libro di Giobbe il redentore colui che ci libera da tutte le nostre angosce da tutte le nostre malattie e questa è la vigilanza la vigilanza che è una tesa fiduciosa vissuta nella preghiera senza l'ansia senza la quel bisogno di dover mettere tutte le cose a posto quando io so che il Signore tornerà quando io so che il Signore tornerà e darà i suoi doni e ci ricostituirà ogni cosa come dice la visione della profetessa Anna di fronte alla sacra famiglia che presenta Gesù al Tempio ecco ricostituirà tutto ciò che è stato messo sotto sopra in Israele dice appunto la profetessa Anna ma diremmo in generale la capacità di avere la fiducia di una ricostituzione nell'ordine ecco allora che questo ordine finale viene descritto in brani celebri di questo discorso di questo lungo discorso che sono i tre grandi racconti sulla fine dei tempi la parabola delle dieci ragazze la parabola dei talenti che anche questi sono dieci e la parabola dei capri delle capre e delle pecore tre grandi discorsi con i quali Gesù assicura ai cristiani un ordine finale un senso di armonia e di festa che prevale nella danza del creato nonostante tutte le varie vicissitudini gli eventi tristi e anche gioiosi della vita prima di tutto il racconto delle dieci giovani dice Gesù è come dieci ragazze che sono state coinvolte nella festa di nozze di uno sposo che ha scelto loro per le loro capacità non ci viene detto quali erano le capacità di queste ragazze se fossero di danza di canto di coreografia di servizio anche semplicemente dieci ragazze che sono state scelte nel paese per poter presenziare a una festa di nozze e queste dieci ragazze giustamente sono state accolte nella loro peculiarità ma ecco stanno in attesa perché la festa si comincia solo quando ecco passa lo sposo e lo sposo le ingloba nel suo corteo e loro cominciano il loro servizio appunto nell'attesa di cominciarlo appunto perché deve passare lo sposo e racconta la parabola appunto si addormentano e nell'attesa si addormentano ma ecco un elemento fondamentale del corteo erano le lampade quindi le luci per poter illuminare il corteo dello sposo cinque di queste ragazze si erano premunite con vasetti d'olio di riserva perché sapevano che l'attesa poteva allungarsi altre cinque invece no e queste rimangono fuori rimangono fuori dalla festa perdono il lavoro perdono l'occasione perché perché non sono preparate ricordate Matteo racconta anche un'altra parabola degli invitati a nozze riguardo all'abito di nozze che cos'hanno queste cinque ragazze che riescono a entrare nella festa del banchetto del banchetto di nozze con lo sposo hanno dell'olio di riserva come si dice appunto in piccoli vasetti dice la parabola cioè si sono preparate con questa capacità di attesa sapevano che l'attesa poteva allungarsi erano pronte ad attendere e così anche il cristiano in questo attraversamento che è la vita con tutti i suoi perigli con tutte le sue insidie il cristiano è colui che sa che questo può durare può essere molto lungo l'attesa del ritorno del Signore ma alla fine c'è una festa e chi non ha appunto messo in conto che c'è da aspettare rischia di rimanerne escluso ecco allora la prima parabola che ci parla di questa attesa certa se c'è una cosa sicura nella vita è che dobbiamo attendere la nostra morte non possiamo prevederla troppo facilmente perché è molto complesso sapere il quando sicuramente attendiamo e questa attesa non è un imprevisto non è un ritardo non diciamo non arriva non arriva quasi ansioso quasi sconvolgente no no lo sappiamo lo sappiamo che il Signore ha i Suoi tempi e non i nostri e così anche i Suoi modi la parabola che segue è quella dei talenti è una parabola bellissima che invita proprio a sapere come gestire questa attesa a sapere come viverla perché dice la parabola appunto l'uomo il servo fa nullone quello che non fa fruttare i talenti è uno che ha paura che vive questa attesa nella paura nell'angoscia nel oddio cos'è successo il padrone tarda non torna come il popolo di Israele ricordate quando Mosè va sul monte a ricevere la legge Mosè tarda e il popolo comincia a darsi alla perversione comincia a compiere i peccati più turpi compreso appunto l'idolatria del vitello d'oro perché di Mosè non sanno cosa sia successo ma come non hanno saputo aspettare ricordate Gesù con i Suoi discepoli nel Gezzemani che dice ma come dormite vegliate pregate ecco questa attesa che non è un caso non è una sfortuna è un'attesa operosa nella quale il servo può mettere trafficare tra virgolette il talento cioè metterlo a frutto e produrre altri talenti produrre altri tesori è un tempo di attesa operosa quello della vita il cristiano non si disinteressa delle sorti del mondo solo perché sa che ci sarà una fine dei tempi in cui arriveranno cieli nuove e terra nuova anzi questo tempo di attesa del compimento di Dio e della storia è un tempo nel quale il cristiano è chiamato a collaborare a questo compimento sapendo che il Signore poi ricostituirà ogni cosa ma questo non significa che il nostro desiderio non è quello di portare il mondo verso questa pienezza dell'eternità del paradiso e ultimo parabolo ultimo racconto il racconto appunto delle pecore e dei capri che dice appunto l'umanità verrà divisa in due gruppi in due gruppi di persone e questa attesa operosa della vita viene descritta con le opere di misericordia bellissimo brano che racconta appunto di chi va a visitare i carcerati di chi da da mangiare agli affamati di chi va a trovare gli ammalati cura le persone sole insomma tutti i gesti di misericordia di condivisione di quello che uno ha in abbondanza il tempo la gioia l'energia nei confronti di chi è più piccolo come dice il Vangelo riprendendo appunto l'inizio del discorso della comunità sul più piccolo chi si fa piccolo e così anche in questa parabola del discorso sulla fine dei tempi Gesù ci mostra come l'attenzione ai piccoli sia quello che fa poi la differenza sulle sorti finali del cosmo e dell'universo opera i gesti semplici piccoli come appunto quello di fare un gesto gentile un sorriso un piccolo dono un messaggio un ricordo a una persona che magari sappiamo essere sola o vivere un momento particolare certamente la quotidianità del gesto dell'amore è il senso di questa attesa della fine dei tempi il Signore Gesù ci invita proprio ad essere a riconoscere che questo tesoro del tempo della disponibilità ce l'abbiamo e non può esserci tolto perché se lo usiamo verso l'attesa di quel compimento tesoro finale che il Signore ci darà con Lui nell'eternità ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino in cammino la tenerezza del tuo vero amore la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore di un'eternità di un'eternità di un'eternità di un'eternità